Musica Tanti auguri di Buon Natale da Sardegna Live Che sia un Natale intanto di pace, di serenità, soprattutto non per dirla come si dice in termini anonimi Per la gente che non sta bene e soprattutto per quelli che stanno soffrendo più di altri in questo momento difficile A buon Natale da Sardegna!